Cercare nuovi clienti per il tuo albergo ti fa perdere il sorriso? Smetti di preoccuparti! Da oggi c'è Beedle, il nuovo sistema di prenotazione delle vacanze. Come funziona? Semplice! Sandy sta progettando la sua prossima vacanza proprio nella tua località. Grazie al sito web o all'app di Beedle, le basterà indicare la destinazione, i dettagli del prenotamento e il suo budget massimo di spesa. Beedle ti trasmetterà la sua richiesta. A quel punto potrai scegliere se accettare o fare una controproposta. Quando Sandy riceverà la tua offerta, non dovrà fare altro che ultimare il pagamento, preparare le valigie e dare inizio alla sua vacanza presso il tuo hotel. Cosa aspetti? Visita subito il sito www.beedle.com e registra oggi il tuo albergo. Facile. Gratuito. Beedle.